Di che umore è Peppino Baldassarre? Andiamo subito a scoprire. Buon pomeriggio Peppino. Salve, l'umore è buono. No perché l'abbigliamento insomma non rispecchia forse il risultato di ieri di Avezzano. Non è finita ancora, non è finita perché siamo stati capaci noi di non chiuderla sta pratica prima, però insomma il 70% di possibilità del Foggio ce l'ha di salvarsi ormai. Solo che questa è una squadra imprevedibile, specialmente in casa, quindi in casa ha perso già 7 volte. Speriamo solo che se capita l'ottava volta non sia con più di un gol di scarto. Ecco poi spiegheremo tutto naturalmente. Da questi ti puoi aspettare di tutto dopo la partita con la spalla, ma anche quando ieri in 11 contro 9, anzi contro 8 e mezzo perché Giordano era zoppo in campo, non sono riusciti a fare stessa. Ascoltare Peppino Baldassarre, al solito io taccio e concedo i 90 secondi a Peppino del suo condotto. È stata una partita da diversi volti e diversi risvolti, perché il Foggia nei primi 4-5 minuti sembrava disordinato, non riuscirono a trovare la posizione in campo e il Pescina ha cominciato ad attaccare. Poi è arrivata la rete di Mancino, meravigliosa, un gol veramente da palcoscenici superiori e addirittura anche internazionali. Il cosiddetto euro-goal di Mancino è stato bravissimo a tirare, a mirare al 7 della porta avversaria e portare in vantaggio il Foggia. Poi c'è stato anche il raddoppio, però in tutto questo c'è da dire che nel Pescina c'era un giocatore straordinario, un certo Rebecchi, che poi è quello che è combinazione e ha segnato il gol della bandiera. Io mi rendevo conto che con la tensione è difficile, però mi auguravo che nell'intervallo appunto un golotti sulla lavagna disegnasse un qualcosa per fermare questo Rebecchi. Invece così non è stato. Il Foggia non ha approfittato neanche della superiorità numerica. lo stesso Pescina nella sua sostituzione con l'uomo in meno nell'intervallo ha messo un ulteriore difensore, quindi non ha voluto rischiare con la difesa 3 proprio perché il Pescina sapeva che era una partita secca, era una partita d'andata. Ecco, vedete qua Rebecchi che si presenta solo davanti a Milano. Poi qui un pochino di fortuna il Foggia l'ha avuta. Così come si parlava prima dell'arbitro, onestamente se fossi stato un tifoso abruccese mi sarei molto arrabbiato, non tanto per alcuni episodi decisivi, forse c'era un rigore per il Pescina sul finale di gara, per un falo di mano, che l'arbitro o l'ha ritenuto involontario o molto più probabilmente non l'ha proprio visto e può capitare di sbagliare. Però la gestione dei cartellini, insomma, sì, l'espulsione era sacrosanta, però qualche cartellino giallo il Foggia l'avrebbe meritato e qualche cartellino giallo al Pescina mi è parso qualche volta anche un po' esagerato. E poi c'è stato lo show al contrario di Ceccarelli, prima abbiamo visto nel primo tempo, mentre parlavamo, scorrevano le immagini, ha fallito una buona occasione, per non parlare poi quando si è presentato solo davanti al portiere. A sto punto uno poteva anche immaginare, beh, al ritorno mettiamo Morini, tanto stiamo vincendo, però la differenza è questa, che Ceccarelli sbaglia i gol, Morini neanche quello fa. Per lo meno Ceccarelli riesce ad arrivare al tiro, poi sciupa tutto, si mangia tutto, Morini invece non lo vede neanche protagonista di qualche palla gol. Ora c'è il ritorno, ma soprattutto c'è da fare un'altra tirata d'orecchia a questa squadra, non tanto per il gol subito che ha riaperto un po' il match dell'andata, quanto poi, con l'infortunio di Bettini, il Pescina è rimasto in nove, e se vogliamo anche in otto e mezzo, perché Giordano ormai zoppicava vistosamente nel campo, e il Foggia invece ha soltanto, guardate Ceccarelli cosa è capace di sbagliare, e lo fa quando si porta la palla sull'altro piede, in pratica già perde tutto, poteva darla indietro a Millesi, ma non poteva sapere che c'era Millesi dietro di sé. È stato un errore madornale, un errore che speriamo di non pagare caro, come abbiamo pagato l'errore di Ceccarelli contro la Spal, qualche paio di settimane fa, speriamo che il Foggia riesca a gestire, anche se non deve andare in campo per gestire la partita, perché non siamo tanto bravi a gestire certe situazioni. Ripeto, ieri 11 contro 9 sul 2-1, era ancora più favorito il Foggia, che al ritorno in campo nella ripresa, quando si era sul 2-0 e in 11 contro 10. Perché il Foggia doveva approfittare ieri? Perché è vero che ieri si è giocato solo il primo tempo, ma il secondo tempo si rigiocherà 11 contro 11, non è che il Pescina torni in campo a 9 contro 11, quindi quando un pugile mette l'avversario alle corde, a quel punto gli deve sferrare il colpo del KO, invece noi non siamo stati per niente cinici, non abbiamo approfittato per niente della situazione favorevolissima che si era creata, e ci siamo un po' accontentati di questo 2-1. Per carità va benissimo, perché prima della gara al Foggia bastava il pareggio per ipotecare la salvezza, a maggior ragione col 2-1, il Pescina deve segnare almeno due volte contro il Foggia senza subire. Però il calcio è strano, e questa nostra squadra è una squadra molto strana, che aveva chiuso in trasferta a 0 in media inglese, se vogliamo aggiungere la partita di ieri, finisce la stagione di campionato a più 2 in media inglese, qualcosa di straordinario. In casa invece ha perso 7 volte, ha pareggiato altre 5, e adesso deve giocarsi questo ritorno. Speriamo che il pubblico riesca a dare una mano, ieri i tifosi erano numerosi, erano presenti, anche in rapporto alla gara della stagione regolare, dove il Foggia subì l'ultima sconfitta il 15 novembre, il Foggia fu costretto a giocare senza tifosi, ma anche con Porto e Pecchia in panchina, si è visto che con Ugo Votti è tutta un'altra storia. A proposito dei tifosi, migliaio quasi al seguito della squadra, anche di più, perché forse in tribuna ce n'erano anche di tifosi rossoneri, che ovviamente sono rimasti soddisfatti del risultato. Voglio anche ricordare, tu eri presente ad Avezzano, 4 minuti di sospensione della gara, per cercare di far arrivare una barrella che era stata richiesta. La genesi che io subito, evidentemente stanno chiedendo soccorso, perché non c'era motivo di invadere il campo, anche perché chi ha invaso il campo con ampi gesti ha fatto capire le sue intenzioni pacifiche, ma occorreva soccorrere forse qualcuno, anzi senza il forse, qualcuno che avrà avuto un malore nel settore riservato ai tifosi del Foggia. Era così lampante, era così evidente. Credo che almeno per questo il Foggia non debba avere multa, sarà multato per i petardi, perché non capisco a che cosa servono. Sì, dobbiamo festeggiare, facciamo scoppi a sti petardi, ma se il regolamento dice che non si può fare, noi non lo dobbiamo fare. E' così semplice. Quante squadre in Serie C riescono a portare mille tifosi al seguito della squadra per uno spareggio play-off? Forse il Verona e il Pescara li hanno portati tanti a Reggio Emilia, il Verona ne avrà portato qualcuno. Però per i play-off. Però per i play-off, sì, ovviamente. Credo che l'Andrea non abbia portato a Giulianova i tifosi che ha portato il Foggia da Verzano. E sappiamo, il Foggia sembra comunque una nobile decaduta. Senti, il tuo sentimento dopo questo primo round, insomma sei più ovviamente ottimista che pessimista, no? Sì, sono più ottimista, però c'è sempre quell'ansia, quella paura, perché questi hanno perso sette volte in casa. Da questi giocatori ti puoi aspettare tutto. Possono permettersi ancora di perdere, però di misura. Eh, appunto di misura. Speriamo che capiscono almeno qual è la misura.